carissimi amici del canale youtube dentro la notizia il parlamento europeo come ormai saprete ha purtroppo votato a favore della procedura d'urgenza per l'adozione del certificato verde europeo ma le mail che molti di voi hanno spedito non sono state inutili alcuni europarlamentari sono stati molto toccati dal gran numero di email ricevute in sole 48 ore ed alcuni di loro hanno risposto alle tante richieste di fermare questo processo accelerato tra le risposte più interessanti vi è quella di saschia brickmont europarlamentare del belgio segnalataci anche da claudia un'amica del canale la più chiara spiegazione che merita di essere diffusa in mezzo a un mare di disinformazione e pressa pochismo è proprio la sua ciò non di meno focalizzeremo il nostro commento su un solo punto debole ecco a voi la risposta quasi integrale del deputato europeo belga ciao migliaia di voi più di 30.000 ci hanno contattato nelle 48 ore precedenti il voto al parlamento europeo sulla procedura d'urgenza per l'adozione del certificato verde europeo proposto dalla commissione europea in questa materia poco spazio è stato lasciato al dibattito democratico così come la confisca del dibattito ai parlamenti nazionali in nome dell'emergenza sanitaria su un tema di cui le vostre domande dimostrano quanto sia essenziale eppure questa settimana la maggior parte dei gruppi politici ha votato a favore della procedura d'urgenza a mio parere e secondo il parere dei membri eletti del gruppo verde ale una procedura così urgente non è giustificata poiché ad oggi diversi fatti sono ancora sconosciuti non dimentichiamo che la pressione viene esercitata per ragioni essenzialmente economiche perché l'urgenza per essere pronti per l'estate e per garantire una ripresa normale della stagione turistica vitale per alcuni paesi per tutti si potrebbe dire comunque le persone e i settori che da essa dipendono questo documento deve facilitare il viaggio ma il certificato non deve essere un presupposto per la libertà di movimento la maggioranza del gruppo verde si è opposta alla procedura d'urgenza per consentire un dibattito democratico sui principi chiave l'assoluta necessità di prevenire la discriminazione tra persone vaccinate e non vaccinate l'accesso universale ai test deve essere garantito in modo che tutte le persone non vaccinate possano beneficiare del certificato e godere degli stessi diritti delle persone vaccinate il certificato non può introdurre restrizioni all'accesso ad altri servizi i cittadini non gli stati dovrebbero avere la possibilità di scegliere tra versione cartacea o digitale garantire che nessun dato venga registrato o centralizzato ad esempio nessuna notifica ogni volta che il certificato viene presentato o dove a chi viene presentato si tratta di linee guida su cui il gruppo verde tornerà durante l'iter parlamentare ma vista la procedura d'urgenza si riduce la possibilità di organizzare audizioni e consultazioni di esperti il certificato non corrisponde a un passaporto ma resteremo attenti al fatto che non vada oltre quello che propone oggi facilitare e armonizzare i movimenti degli europei durante una pandemia i migliori saluti Saskia Brickmont ebbene in sostanza siamo soddisfatti soprattutto di sapere che le nostre preoccupazioni per il rispetto dei diritti umani sono state anche quelle di alcuni europarlamentari ma ciò che non va e su cui rifletteremo ora è la seguente affermazione di Saskia l'accesso universale ai test deve essere garantito in modo che tutte le persone non vaccinate possano beneficiare del certificato e godere degli stessi diritti delle persone vaccinate si conferma quindi che per avere il certificato devi essere vaccinato o essere sottoposto al test oppure essere guarito dal covid ma la cosa preoccupante è che Saskia fa comprendere che il certificato vaccinale fornisce dei benefici e dà dei diritti in più rispetto a chi non lo possiede il punto è che si creano dei cittadini di serie a e di serie b ma soprattutto quello che temo è che in realtà non si diano dei diritti in più ai possessori del certificato ma si sottragano dei diritti umani a coloro che ne sono sprovvisti perché rifiutano il vaccino e il tampone in sostanza chi non avrà questo certificato sarà costretto in caso di viaggi a sottoporsi a quarantena con la conseguenza che sarà fortemente scoraggiato in realtà impossibilitato a fare viaggi brevi di lavoro o di vacanza oltre a ricordarci i tristi eventi del secolo passato questo marchio a tutti gli effetti creerà una discriminazione tra i cittadini oggi è per i viaggi domani se noi gli diamo un freno magari sarà per l'accesso a bar ristoranti e supermercati non siamo stupidi il certificato è fatto nell'intenzione di spingere le persone a vaccinarsi continueremo a mantenere i contatti e a vigilare sul parlamento europeo a meno che a meno che sei clandestino allora entra in italia e circoli liberamente senza alcun certificato né vaccino sono loro i veri privilegiati e qui un dubbio viene ma la cosa molto positiva è che in tutta europa e in tutto il mondo sempre più persone si stanno accorgendo di questa losca trama delle diaboliche elite e un buon numero di persone se le costringe a fare qualcosa contro la loro volontà rovesciano il tavolo dei moderni cambia monete prima di concludere volevo ringraziare la chiani life di ferrari massimo che in collaborazione con la h price porta in italia l'innovativo depuratore basato sugli studi del grande ricercatore giapponese masaru emoto ed è il dottor william reich l'unico depuratore che lavora sulla struttura biofisica dell'acqua cambiando i cristalli di h2o e irrobustendo il nostro sistema immunitario creando un campo energetico che trasmette tramite risonanza una nuova struttura armonica all'acqua la chiani life quando ha saputo che youtube ci ha privato degli introiti pubblicitari e degli abbonati ha deciso di dare anch'essa un contributo a favore della libertà di tutti gli italiani carissimi amici del canale youtube dentro la notizia un vivo ringraziamento a tutti voi che aiutate con le vostre donazioni la libera informazione a tutela del popolo senza il vostro aiuto di cui vi siamo profondamente grati non potremo crescere e migliorare il nostro servizio informativo chi fosse interessato a sponsorizzare la propria azienda su questo canale può contattarsi tramite le mail in descrizione per essere avvisati sull'uscita dei nostri video potete iscrivervi al canale mettere un like attivare la campanella e condividere i video più siamo più forza avremo uniti si vince un abbraccio dal vostro robin